Anzi, prima di iniziare con le mozioni, volevo far presente che nella seduta di oggi, se tutti sono d'accordo, io inserirei anche quella risoluzione sul paleo, già preannunciata, firma di gruppi diversi, l'avevo firmata io con due consiglieri senesi, ovvero Scaramelli e Bezzini, l'aveva firmata Borghi e il Raul, no, e Stefano Mugnai, quindi Gianni Scaramelli, Bezzini, Borghi e Mugnai. Per l'inserimento nella seduta di oggi chiedo l'approvazione, favorevoli, contrari, poi chiede su questo, non ci sono, astenuti, non ci sono, prego. Buongiorno colleghi, grazie Presidente, avevo una richiesta a proposito di questa risoluzione, chiedevo che fosse emendato l'ultimo capoverso, l'articolo D dell'impegno, dove avrei la richiesta che innanzitutto questo punto fosse destinato prevalentemente a quella che è la tutela degli animali, perché nessuno nega che il Palio di Siena sia senz'altro una manifestazione di grande importanza, di grande valore culturale, non solo per la città, ma per l'intera Toscana e per l'Italia, data la particolarità. Però è necessario, a mio avviso, che venga fatta una maggiore tutela, per quanto già la città di Siena e le contradi si impegnino per la tutela dei cavalli che vengono impegnati nella competizione, una maggiore tutela per gli animali. Quindi chiederei un emendamento da questo punto di vista. Benissimo. Le faccio presente che avevo fatto votare solo l'inserimento all'ordine del giorno all'inizio di salute, come previsto dal regolamento. Però sono questioni di merito. a questo punto, se prepara l'emendamento, se parla... Ora io sono qui impegnato, ma con i consiglieri, magari entrando su questioni più tecniche, magari con i consiglieri senesi, in modo che quando arriviamo può esserci l'emendamento, che io sono convinto può essere assolutamente integrativo di quello che c'è. Comunque ne parliamo quando entriamo sul merito della risoluzione, che essendo stata inserita ora è l'ultima degli argomenti che approntiamo. Approntiamo.